Musica Joy to the world, the Lord is come Let earth receive her King And I'm free Il grande maestro Sal Derizo, Accademia dei Pasticceri Italiani, ma anche Pasticceri dell'Anno 2010-2011 Sal, grandi menzioni anche quest'anno per te e per il tuo prodotto d'eccellenza Beh, il panettone è diventato il simbolo dell'Italia nel mondo e grazie ai tanti artigiani, pasticceri, abbiamo saputo dare tutti insieme un messaggio grande all'Italia nel mondo quindi un prodotto di eccellenza, un prodotto di pasticceria di grandissimo livello che finalmente viene apprezzato dal grande pubblico viene assaggiato da grandi e piccini perché noi ci divertiamo a prepararli in tutti i modi e devo dire che non solo a Natale, già da luglio-agosto iniziamo a fare panettoni e i miei clienti in Costina Amalfitana sono molto contenti e i tanti turisti che vengono già dal mese di luglio assaggiano il nostro panettone artigianale Adesso anche a Roma non è il primo anno alla Fiera Nazionale del Panettone e tra l'altro è una fiera che si sta assestando tra le migliori in Italia tu sei anche un pochino l'ambasciatore di questa fiera Beh io ci ho creduto al primo giorno a questa fiera abbiamo iniziato che veramente eravamo piccini poche persone, pochi pasticceri ma adesso come vedete la sala è pienissima è da stamattina che c'è una grande folla in attesa fuori per entrare e questo ci rende veramente felici stiamo raggiungendo l'obiettivo dobbiamo cercare una sede ancora più grande dobbiamo pubblicizzare sempre di più grazie a voi giornalisti che noi siamo qui li aspettiamo per far degustare i prodotti migliori dell'Italia e quindi tutti insieme dobbiamo fare squadra dobbiamo fare rete per fare in modo che i piccoli artigiani vengono conosciuti dobbiamo fare dobbiamo fare grazie grazie grazie